La posizione di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale nei confronti del Presidente neoeletto Sergio Mattarella è critica, ma questo ovviamente non ci impedisce di fargli gli auguri di buon lavoro, anche perché l'Italia ha bisogno di un Presidente della Repubblica autorevole ed efficace. Non abbiamo condiviso questa scelta sia per questione di merito che per questione di metodo. Nel merito non si può essere protagonisti in tre stagioni diverse della storia di una nazione. Mattarella è uomo che viene dalla Prima Repubblica, quindi il fatto che sia autorevole non toglie evidentemente l'impossibilità di sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda dei bisogni reali dell'Italia del terzo millennio. È stato anche sbagliato il metodo perché questa sorta di presa per i fondelli per gli alleati rappresentati da Alfano, del centro-destra nel governo, e gli alleati di Renzi rappresentati da Berlusconi, del cosiddetto patto del Nazareno, la dice lunga anche sulla spregiudicatezza del Presidente del Consiglio. Noi abbiamo immaginato invece un percorso diverso come Fratelli d'Italia, abbiamo condiviso con la Lega la candidatura di Vittorio Felti, una persona autorevole, un professionista al di sopra delle parti, Mattarella sarà una bravissima persona ma non è al di sopra delle parti, ha portato una casacca, la casacca della democrazia cristiana per tanto tempo e quindi non può essere arbitro chi ha rappresentato una parte. Noi siamo stati coerenti con quello che avevamo detto che avevano teoricamente affermato anche altre forze politiche, diversamente dalle altre che invece se le sono rimangiate. L'unico auspicio per guardare in positivo nella mia metà campo, quella del centro-destra, è che questa lezione, perché non credo che ci abbiano fatto una bella figura né quelli che con disonore condividono una vittoria che non hanno costruito, né quelli che hanno lasciato la possibilità della scata bianca per dare lo sciogliere delle righe, e quindi consentire ai parlamentari di Forza Italia clandestinamente di sostenere Mattarella, l'unico auspicio, dicevo, è che da qui, da questo scivolone, si possa iniziare un percorso di un centro-destra 2.0.